Direttamente dal studio di RTV Network, quindi è un momento, come dicevo, di parlare del rugby con dei veri personaggi. Il nostro Cochi Modonesi è ovviamente uomo della generazione azzurra, quelli che hanno seminato, per voi che dopo avete preso un grande silenzio, per questi di adesso. Un processo che qualcuno di questi giocatori, forse giovani, ne conoscono neanche. Forse lui direttamente no, te e un po' di più ti conoscono. La tradizione in Italia, ahimè, visto che io comunque lo posso dire, non si offendano, manca un po'. Credo che l'analisi si raccolga in una situazione che è quella dell'Italia che prende il treno dei sei nazioni come ultimo vagone per salire sull'alto livello. Quindi immagina questa nazionale che prende l'ultimo vagone attaccati al volo mentre il treno parte. E devo dire che in un momento difficile come adesso, dello sport in generale, o comunque un momento economico molto duro, il fatto di partecipare a un grande evento come sei nazioni, che è l'evento storico per eccellenza del rugby mondiale, ha consentito all'Italia di avere adesso delle prospettive importanti davanti. Chiaro è che in tutta questa fase di accelerazione massima abbiamo perso quello che è la costruzione di un'identità, di una storia, della storia o comunque di recuperare una storia che c'è, che è importante e che adesso è un processo che dovremmo comunque affrontare perché credo che una nazione senza la storia non è una nazione senza identità. Infatti, infatti, in questo momento siamo in tempo di Heineken Cup, della Champions League. Del rugby, Cocchi, tu hai visto la tua solita poltrona? Il discorso che ha fatto giustamente Giovanelli lo vede in Heineken Cup, la differenza è che ci sono la nostra nazionale perché giustamente non è stato seminato bene perché sono dieci anni che ci siamo in sei nazioni. Cosa abbiamo fatto? Qualche riguarda positivo così, ma in realtà che squadra abbiamo? Metà è fatta di stranieri italianizzati, ma il movimento italiano nei nostri club italiani cos'è? Nonostante i club italiani che abbiamo visto il Treviso domenica a giocare con il Master, il campione d'Europa, pur imbottito di stranieri, ha preso 44 punti. Cioè, non abbiamo avuto il miglioramento, il livello per giocare con loro e purtroppo non ci sarà mai fino a quando avremo un campionato che è così interrotto, così debole rispetto a loro che gioca tutte le settimane a quella velocità, a quale percussione. Noi abbiamo due o tre squadre in Italia, l'altro così, ma non abbiamo la qualità per giocare con loro. Avremo la possibilità di parlare perché in primis andiamo a a quello che è stato i risultati di questo weekend dell'Eineken Cup. Quindi prego il nostro director Matteo Bambini, eccoci qua. La Eineken Cup che ha visto la Benetton socombre contro il Master, 7-44. L'Hanpton ha vinto anche lì alla grande contro il Perpignan, 34-8. Quindi qui ci ha delineato già le due, diciamo, che passaranno l'altro turno. Invece nell'altro girone, nella Pool 2, il Biarritz che è già qualificato ha perso contro il Gloucester. Il Glasgow ha vinto contro il Newport. È un girone comunque che vede il Biarritz ormai qualificato per la fase successiva. Invece per il girone che coinvolge il Viadana ha perso, ovviamente, 47-8 contro l'Acer Tigers. Osprey sono andato a perdere con Clermont. Clermont-Norvengne è in questo momento la squadra più in forma, secondo me. Hanno perso bene tra i risultati. 7-7, sì, infatti. Quindi questo girone vede una squadra, in questo momento secondo me, più in forma che il Clermont-Norvengne. Invece anche l'Està francese ha vinto soffrendo contro il Vaz. Qui vedete i risultati. Invece l'Alster ha vinto contro l'Evimburgo. Qui l'Està francese sta confermando la sua buona posizione. Invece il Toulouse, Toulouse, anche lui qualificato. I francesi hanno mai qualificato sicuramente il Toulouse e il Biarritz. Il Toulouse che ha vinto contro l'Arlokins, 33-21, una partita di domenica. E il Cardiff-Louv, che non ha avuto difficoltà per vincere contro il Sel. Io direi che sospendiamo il discorso della Challenge, perché così entriamo subito. Mandiamo immagine del pre-match, che abbiamo visto un comune amico nostro. C'era Bimbo Arancio, che c'era la partita del Master, con un piccolo clip. E dopo commentiamo un po' di immagine. Vamos! Bimbo Arancio, che vuole di Catania, però, eh? Ma non è che quasi sta male oggi, eh? Infatti, è una bella giornata. Abbiamo trovato un bellissimo tempo. Abbiamo trovato un po' di immagine. Allora... Allora... Bellissimo questo... La festa era lì con loro, con quelli del Master. Sentiamo. Allora, Massimo, comunque la festa era lì, però sinceramente si poteva fare di più. C'era un contingente così grande di persone, di irlandesi che sono venuti e l'evento era lì, era forse da sfruttare di più. Per parlare giustamente di tradizioni, cercare di passare il nostro messaggio, come visibilità anche. Io credo che la Coppa Europa potrebbe essere veramente un veicolo straordinario di promozione turistica, promozione di eventi e anche, perché no, di generare del business. 3.000 irlandesi che vengono, questi arrivano in città, sicuramente sono pronti a rispondere a offerte di merchandising, piuttosto che ristorazioni, piuttosto che eventi collaterali. Quindi credo che ci siano spazi importanti nel futuro, pensiamo alla Celtic League, ma lo stesso comunque anche a un discorso ad oggi della Coppa Europa, per quello che abbiamo è questo, di veramente di spazi per operazioni commerciali importanti. Questa è la strada del regno del futuro. La strada del futuro è per questo che la Celtic dice, venite, però cosa offrite? Perché il dubbio c'è adesso con l'ingresso o meno di queste due franchigie, ci sono un sacco di polemiche, lo sai benissimo Massimo come sta succedendo questa situazione, e purtroppo alla fine si rischiano ad entrare in questa Celtic League, perché alla fine comunque loro cercano anche delle grandi piazze. Le indicazioni stesse dell'organizzazione Celtic League era stata di due città, due città più importanti, Roma e Milano, perché ovviamente il rugby del futuro è un rugby fatto di numeri, il pubblico è fatto di business globale. E' chiaro che sono apprezzabilissimi e sforzi straordinari, quelli che fanno via Dana con gli aeroni, piuttosto che anche quelli di Treviso che rappresentano comunque una marca, ma diciamo ad oggi l'indicazione dovrebbe essere quello di grandi centri dove portare l'info a pubblico nuovo, cioè è questo che ci chiede il rugby d'Europa, è questo che ci chiede i se nazioni. Quindi diciamo che abbiamo sprecato sicuramente una buona occasione per dimostrare un Paese unito che ha degli obiettivi comuni e ancora ci siamo tirati i capelli su situazioni che ancora non sono chiare. Infatti, questa partita ha la dimostrazione che questa Venetton poteva fare di più, perché se pensiamo che contro Perpignan aveva vinto una partita, i francesi comunque tu mi insegni, i latini tante volte sottovalutano, forse hanno preso sotto gamba quella parità lì, i campioni di Francia che viene a perdere contro i campioni d'Italia, invece questa volta hanno potuto ripetersi, perché questi sono troppo pragmatici, troppo forti, hanno subito messo… Non sono latini, sono molto pragmatici e vanno sul sicuro, questo ha segnato un punto al minuto i primi 20 minuti, ma tra l'altro non facendo, cioè facendo azioni straordinarie tecnicamente, ma grazie ai nostri non placaggi, perché uno contro uno, eccolo qua, van via, andiamo via anche io a te, voglio dire, se non ci placano, ma comunque sia questa è veramente una squadra che è una corazzata, giocatori con le due seconde linee, Ocala, Ocone, Ocala di dietro, ma tutti, questa qui è addirittura la… Sì, diciamo questa è una nazionale mascherata.